dottoressa di renzo avete appena pubblicato una nuova ricerca scientifica sull'autismo quali sono i risultati e quindi gli obiettivi l'obiettivo di questa ricerca era di evidenziare quanto la non elaborazione della diagnosi influenzi negativamente i genitori nel corso dello sviluppo del bambino quindi diciamo una ricerca che ha un'implicazione eminentemente clinica perché questo aspetto viene spesso sottovalutato e quello che è emerso invece attraverso tante correlazioni e test validati basandosi sulla letteratura di studi già fatti in israele e anche negli stati uniti tra l'altro abbiamo fatto questo studio in collaborazione con zavattini diciamo è proprio emersa questa correlazione importante che laddove i genitori erano riusciti erano stati aiutati ad elaborare la diagnosi evidentemente la diagnosi era stata posta anche in modo da essere aiutati ad elaborarla o c'era stato un lavoro specifico questi genitori risultavano maggiormente sintonizzati con i bambini e questo naturalmente si manifesta con un migliore atteggiamento dei bambini cioè sono bambini che stanno meglio e l'altro punto che mi sembra interessante sottolineare è che l'elaborazione della diagnosi non è legata al tempo che passa dal momento in cui la diagnosi viene effettuata perché ci sono degli studi in letteratura che hanno dimostrato che anche a distanza di tre o sette anni se non c'è stata un'adeguata risoluzione non avviene quindi ciò significa che il genitore che anche mettendo in campo tutte le possibili energie però non ha risolto emotivamente il problema della difficoltà perché non dobbiamo mai sottovalutare il fatto che si tratta di una diagnosi che cambia la vita alle famiglie e quindi io ritengo come diciamo da sempre che sia un dovere degli operatori occuparsi anche delle difficoltà dei genitori e quindi aiutarli a vivere più serenamente possibile dottoressa di renzo il campione della ricerca è un campione sostanzioso esatto tutte le famiglie insomma in particolare le madri e i padri che hanno partecipato quindi sono riusciti ad avere un riscontro pratico quelli che hanno partecipato a quella ricerca a questa ricerca sì perché è una ricerca molto articolata che ha comportato dei tempi piuttosto lunghi di elaborazione perché tutti i genitori sono stati video registrati nelle loro sequenze con i bambini ed è stato poi possibile fare una riflessione insieme a loro vedendo video cioè una ricerca molto articolata in cui hanno potuto proprio verificare essere aiutati a capire quello che oggi si chiama l'insightfulness cioè la capacità di comprendere le intenzioni del bambino e quindi tutto il tempo che è stato dedicato attraverso questionari validati eccetera ma diciamo di elaborazione insieme ha aiutato anche quelli che ancora avevano un nodo forte sul tema a iniziare un'elaborazione diversa quindi diciamo per noi aveva una finalità eminentemente clinica e la cosa importante è una riflessione che tutti dobbiamo fare sul tener conto del bagaglio emotivo del genitore perché il vero strumento per che il bambino si sintonizzi in modo adeguato e siccome sono bambini atipici i genitori devono essere aiutati a comprenderli direi che devono essere aiutati a poter essere genitori esattamente devono rielaborare devono rivivere riacquistare una sentirsi competenti perché sa per un genitore è molto triste non sentirsi competente e d'altra parte nessuno può essere competente inizialmente con un bambino che ha queste difficoltà quindi io penso che sia un dovere di coloro che operano terapeuticamente in questo ambito aiutare il genitore a decifrare questo bambino affinché lui diventi un genitore competente in grado di sentire di poter soddisfare i bisogni del suo bambino perché diciamolo che la relazione è sempre possibile assolutamente sì ed è questo che il genitore può recuperare con risorsa in un modo in un altro con rifiuti o quant'altro c'è sempre la possibile impossibile non trovare una relazione bisogna avere la capacità di accettarla inizialmente per elaborarla non accettarla perché rimanga così ma accettarla perché il bambino possa crescere grazie all'aiuto di adulti che sanno sintonizzarsi con lui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti